ciao a tutti anime bentornati su quinta dimensione letture vi saluto tutti calorosamente di cuore con affetto ricambio veramente tanto il vostro affetto che mi dimostrate veramente grazie a tutti quanti gli iscritti soprattutto quelli da tanto tempo che commentano che mi scrivono e poi ci sentiamo in privato insomma è veramente uno scambio bellissimo grazie a tutti quanti un grazie doveroso anche tutti gli abbonati anzi invito chi vuole ad abbonarsi a questo canale leggete sotto sotto il diciamo il video che state vedendo c'è abbonati e iscriviti chi vuole può fare anche l'abbonamento al canale leggete tutte le istruzioni su perché come e come come si può fare l'abbonamento e quali sono le opzioni quindi grazie mille per sostenere questo canale tramite l'abbonamento e saluto ovviamente anche tutti i nuovi chi mi ascolta per la prima volta vi ricordo come vedete qua sopra di iscriversi al canale e di attivare la campanellina cliccando su tutte vi ricordo anche in ultimo e poi parto di guardare la descrizione del video perché ci sono tante informazioni per esempio questa è la tovaglietta dei messaggi divini sono tutte creazioni che faccio io per me e sono anche acquistabili a chi piace così come ci sono anche diversi mazzi di oracoli il nuovissimo è proprio i numeri della fortuna dove poi regalo dei numeri a voi facciamo gli abbonamenti ma potete usarlo anche per voi come numero del giorno e anche per farvi dei numeri voi per giocare voi come volete voi quindi andate a vedere la descrizione del video trovate tutti i link diretti e così anche per parlare con me chi vuole fare consulenze privati private percorsi di crescita anche sul sito web quintadimensioneletture.it anche lì ci sono delle informazioni potete vedere tutto fate un salto anche sul sito perché metto anche contenuti non metto solo video qua su youtube ma anche contenuti da leggere sotto forma di blog proprio per la vostra crescita aggiornamenti e tante notizie per voi quindi andate a vedere allora vediamo oggi il messaggio proprio qual è il messaggio che deve arrivare cosa deve dirti il maestro cosa deve dirti l'energia qual è proprio in questo momento il messaggio più importante sappi che non è mai un caso quando ti arriva anche se questo video è collettivo poi molto ovviamente in privato mi dicono che è proprio identico alla situazione personale quindi tante volte ci stupiamo di questi collettivi io dico sì vabbè è un collettivo potrebbe non risuonare a tutti però in realtà risuona sempre ovviamente ci sarà una parte che non risuona però insomma tutti quelli che sento poi sono spinti anche a fare le consulenze anche per quello perché c'è una assonanza pazzesca nei miei video con quello che è poi la situazione personale di tanti allora facciamo così scegli intanto tra queste sfere puoi sceglierne due perché io farò tre sfere la prima sfera è la viola la seconda sfera è la verde la scusate la arancione e la terza è la verde quindi viola 1 arancione 2 e verde è la 3 scegli pure puoi ascoltarle anche tutte ma puoi sempre comunque devi sempre avere ben chiaro cos'è che t'ha chiamato perché così funziona va bene allora facciamo intanto i mazzetti prendiamo intanto l'angelo vediamo qui e ora a chi ascolta qui e ora la viola arancione e verde potrebbero esserci notizie oggi mi sento molto sciocca in senso insomma buono vediamo sfera viola sfera viola questa arancione verde vediamo anche il mio oracolo messaggi divini anche questo è in descrizione a chi piace qui e ora viola arancione verde metterò poi al momento per ogni stesa un messaggio star seed un messaggio stellare per voi intanto scegliete e cominciamo spostiamo leggermente la lettura numero 3 verde e la lettura numero 2 arancione e ci posizioniamo qua partiamo con la lettura viola eccola qui tiriamo fuori subito il messaggio chiave importante sfera viola e la mettiamo qui intanto partiamo con queste nostre tre carte che sono per te che ha scelto la lettura numero 1 o il colore viola sia perché gli piace il colore perché gli piace il numero 1 fate voi come scegliete come vi sentite partiamo vediamo cosa c'è intanto da sapere adesso l'arcangelo raziel qui partiamo guardate il viola non so eh guardate un po' viola con viola partiamo subito alla grande numero 9 perché ci corrisponde all'arcano eremita e abbiamo appunto raziel qui dice di spendere più tempo in meditazione in pace in armonia con te stesso hai delle nozioni delle lezioni spirituali e ti devi proprio dice qua devi fare della autoscoperta in poche parole perché sto traducendo in tempo reale quindi la devo tradurre poi farvi capire anche il concetto perché non è non basta la traduzione letterale bisogna anche far capire che cosa significa allora l'autoscoperta significa comunque andare alla ricerca quindi qua la lettura numero 1 deve continuare nella ricerca spirituale personale da solo perché c'è proprio la parola self e quando dice self vuol dire proprio che la tua auto analisi la tua autocomprensione il tuo autostudio il tuo autocercare va bene come così funziona quindi qui dice di prodigarti attivarti per andare a cercare le verità spirituali perché qua dice anche lezioni spirituali nozioni lezioni ok letture libri studi a livello spirituale quindi proseguire anche mi viene perché magari anche nel percorso quindi sia da solo ma anche per chi magari sta facendo dei corsi magari olistici o magari erboristici insomma in questo campo qui va molto bene se vi è arrivato e state studiando qualcosa o state facendo delle ricerche da soli in autonomia come qua ti dice perciò va bene anche soprattutto per queste persone e soprattutto per tutti spendere del tempo dice qua cioè cercare di trovare assolutamente proprio il tempo per fare della meditazione qua perché sapete che l'arcangelo raziel è chiamato anche il mago di dio e l'alchimista è quello che ci aiuta anche a fare tra virgolette le magie no il mago del cielo si chiama quindi insomma chi gli piace questo argomento no puoi manifestare tra l'altro se stai facendo l'arcangelo raziel col decreto dei scioglimento voti blocchi e debiti carmici che tra l'altro è quello più canale più assolutamente canale in questo canale assoluto proprio il più cercato in questo canale più guardato perché funziona è lo scioglio proprio dei lo scioglimento dei voti va bene quindi mi raccomando è anche una conferma in questo senso per voi per chi sta facendo questo decreto va bene è un momento di conoscenza qua è un momento in cui andiamo a diciamo a cercare andiamo alla ricerca di percorsi della nostra interiorità della nostra ricerca delle nostre scoperte questo va bene e in solitudine funziona perché ci sono specialmente in certi periodi che dobbiamo proprio stare da soli è tra virgolette obbligatorio perché nella solitudine nella quiete e nella proprio ricerca troviamo poi quello che cerchiamo nella confusione quando parla quello quando parla quell'altro anche se il gruppo magari va bene perché un percorso che ne so di meditazione di yoga quello che è però è sempre un gruppo invece nella meditazione solitaria nella ricerca solitaria ci sono cose che mai viverranno in gruppo c'è molto di più no quindi qua ti dice proprio di andare alla ricerca da sola o da solo vediamo adesso chi è il maestro ecco qua c'è anche della eventualmente beneficenza che puoi fare preghiere contemplazione si chiama connettiti con il cielo con l'universo col paradiso chiedi e riceverai però dice qua comunque sia puoi fare anche uno scambio nel senso donare ok per poi anche ricevere dal cielo eventualmente preghiere contemplazione intanto ti beh se vedete no anche qua abbiamo più o meno una certa corrispondenza perché perché comunque la preghiera la contemplazione parla dell'eremita perché l'eremita questo va a fare va a pregare va a contemplare va a studiare nella solitudine va a fare il suo percorso il suo cammino interiore questo significa e di qua ce lo conferma se vuoi a chi piace insomma chi può può anche fare delle donazioni può fare della carità può fare comunque delle come che si dice delle beneficenze ovviamente ognuno in base a quello che che può ovviamente qui c'è un potere in questo momento di connessione che puoi ottenere nel senso mi spiego puoi chiedere e puoi anche ottenere in questo momento di percorso se non lo stai già facendo ti invita a farlo cerca di chiedere perché in questo momento potresti proprio ricevere questo messaggio molto forte andiamo a vedere adesso tutto il supporto e l'amore divino sono con te 5 8 8 5 5 8 imminente grande cambiamento c'è un supporto come ci diceva anche la carità qua no che si chiama carità il maestro la maestra insomma qui maschio femmina non è quello è l'energia essenziale che arriva 5 8 8 5 5 8 nella descrizione del video vi metto proprio la playlist numeri degli angeli così potete guardare i significati dei numeri proprio a livello energetico e angelico guardate sotto cliccate e trovate la corrispondenza numerica 5 8 58 55 88 questi numeri qua ci parla di un imminente grande cambiamento in arrivo però la cosa bella è importante che c'è un supporto divino che hai ce lo confermano assolutamente sono con te queste cose che cosa il supporto e l'amore divino quindi ci sono chi ha qualche dubbio chi non sta ricevendo messaggi perché mi dice non capisco non riesco a capire io chiedo ma non riesco a decifrare la risposta no ecco qua ti ha risposto questi sono alcuni modi questo è uno dei modi per dimostrare la vicinanza anche attraverso di me molte volte è successo che ti arriva proprio o anche in privato o qua nei miei video proprio la conferma della cosa che avevi chiesto e ti arriva di qua la conferma quindi questo è molto importante un messaggio di conforto d'amore che ti sta arrivando supporto e amore divino andiamo a vedere adesso proprio la cosa fondamentale dopo tutto quello che abbiamo detto ma dobbiamo anche vedere qual è il messaggio proprio clou di tutto questo vediamo per te qual è trascendenza quindi che dice che devi trascendere le limitazioni della tua mente permettere alla tua anima di brillare proprio come che si dice di brillare proprio nella verità no al pieno potere al suo vero potenziale questa trascendenza cioè vuol dire andare oltre ti dice le limitazioni della tua mente e permette a questa bellissima anima che tu hai di brillare veramente nella verità fino in fondo quindi qui via ogni limitazione che viene da che cosa dalla testa la classica mente che va sempre in mezzo no qua dice trascendere questo vai oltre questi limiti che la tua mente ti sta imponendo perché c'è un'anima qua alla quale tu devi permettere di brillare ma veramente brillare luce che deve brillare dice qua e questo sei tu questa sei tu perciò c'è qualcuno che si sta trattenendo probabilmente no la luce che deve brillare ci viene probabilmente anche dal percorso no che stiamo facendo in solitaria qua per cercare queste risposte questa luce e spero che questo video ti ha aiutato a capire proprio che ormai le barriere le limitazioni le devi togliere una volta per tutte questo era per te spero che è stato utile grazie mille se ti è piaciuto questo video lasciami un like iscriviti al canale e io vado avanti andiamo con la lettura numero 2 con la sfera arancione vediamo e mettiamo subito il messaggio chiave per la sfera numero 2 arancione chi ha scelto la seconda posizione o il colore arancione il messaggio eccolo qui partiamo vediamo intanto un po di messaggi vediamo qual è proprio quello che devi sapere adesso assolutamente in questo momento l'arcangelo gabriele con un numero 12 e parla di risveglio guarda le cose da una prospettiva diversa c'è probabilmente per alcuni un fermarsi è importante essere se stessi allora intanto la cosa più che viene fuori è che qualcuno ha un temporaneo fermo di qualcosa uno standby bene uno standby di qualcosa di se stesso per prendere una decisione per fare un passo per un lavoro per la vita per l'amore per delle decisioni importanti potrebbe essere un momento in questo momento che c'è uno stallo in qualcuno ed è importante dice qua essere comunque se stessi in questo momento per trovare poi in questo punto ecco è molto importante adesso vedere cosa c'è qua proprio riferimento a questo che è arrivato qui c'è un risveglio che probabilmente in alcuni ha creato proprio una consapevolezza così tanto che si stanno facendo proprio tante domande e quindi sono in questo temporaneo stallo che non è negativo perché c'è un risveglio questa carta che ti è arrivata anima si chiama risveglio e dice che è necessario in questo momento per te guardare le cose da un'altra prospettiva perché a volte ci si fissano sempre in quella prospettiva e si guardano le cose solo da quel lato però abbiamo anche questo lato di qua questo lato qua su quello lato quel lato là quindi qua c'è un invito a riconsiderare approfitta di questo magari stallo di questo fermo di questo momento di pausa per permetterti di capire te lo devi te lo deve te stessa o a te stesso no e chi fa fretta lasciali stare chi fa fretta vuol dire che c'è qualcosa che non quadra prenditi tutto il tempo durante questo momento per riflettere perché c'è un risveglio che ti sta facendo capire tante cose e qui è utile per te guardare le cose da un'altra prospettiva mi raccomando e soprattutto non dimenticare l'essere se stessi qua è richiesto ti è richiesto in modo assoluto quindi non farti manipolare non farti trascinare ma se il tuo cuore la tua presenza io sono quel qualcosa che ti dice è così ti devi fidare di quella cosa e vedrai che non te ne pentirai questo è il messaggio abbiamo l'arcangelo gabriele che è collegato al quarto raggio bianco no al quarto raggio bianco quindi cioè qui parliamo di risveglio di comunicazione parliamo di notizie c'è un collegamento no è la luce dell'ascensione ecco perché c'è awakening c'è un risveglio perché è collegato gabriele al raggio del risveglio dell'ascensione che appunto il bianco andiamo avanti vediamo ancora chi esce qua chi c'è melchisedec eccolo qua ah beh qui ci sono lezioni grosse e dice qua molto alte e allora hai imparato anche dall'esperienza adesso ti dice dovresti studiare ancora di più per fare il prossimo passo un ulteriore progresso dici devi studiare di più a livello inner interiore profondo più profondamente e anche sulle cose proprio spirituali interiori c'è tutto quello che riguarda dentro quindi studi diciamo metafisici studi olistici su meditazioni su quello che voi volete ma il campo è questo dice qua melchisedec ci sono lezioni proprio molto importanti che già o per alcuni ci sono già e le state facendo per altri magari è proprio uno sprono a fare questi tipi questo tipo di studi più studi dice qua ancora di più perché c'è un progresso ti dice qua melchisedec un progresso ancora per te da fare questo è un maestro c'è un progresso ti dice quindi magari una parte ce l'hai già c'è un'altra che deve arrivare per te è necessario magari ci sarà qualche rivelazione a breve qua perché se dice c'è qualcos'altro da studiare da leggere da capire no da affrontare a livello proprio psicologico di comprensione delle cose perché tanto dobbiamo leggere dobbiamo capirle quindi dalla mente per forza che devono passare no c'è qualcosa che devi ancora secondo me studiare capire un messaggio che ti devono dare ancora studiando ripeto più profondamente studi proprio sulla consapevolezza sull'interiorità questo ti è richiesto vediamo adesso i messaggi divini oracolo che cosa ti dice allora dedicati a qualcosa che ti piace rilassati e lascia andare 666 ci sono dei pensieri fuori equilibrio vai dentro di te di nuovo dentro di te qua studi insomma sul diciamo su se stessi interiori beh siamo qua qua dobbiamo un pochino rientrare dentro va bene a volte qualcuno qua fa dei pensieri troppo ossessivi fuori equilibrio magari si fissa su qualcosa no cerchiamo allora è normale intanto non è una critica però cerchiamo di rientrare quando ci accorgiamo battiamo facciamo schioccare no pensiamo la fiamma viola lì per lì appena ci accorgiamo va bene perché nessuno è immune da questo la mente va da sola molte volte quindi ci troviamo a pensare a cose anche magari dice ma io studio tanto faccio tanta pratica è però a volte mi trovo sempre con quella cosa è certo che funziona così perché la mente da domesticare è tosta quindi non vi preoccupate però quello che deve fare lo studente spirituale cos'è è porvi rimedio prima possibile questo sì che si può fare però quindi non colpevolizziamo il pensiero che è sorto ma cerchiamo di mandarlo via quanto prima questo è importante no rilassati intanto quindi fai delle pratiche anche cinque minuti al giorno di respirazione rilassati proprio lascia andare e fai soprattutto ti dice qua che è una delle pratiche molto che funzionano per esempio fare qualcosa che ti piace perché fare qualcosa che ti piace ti distoglie da questo fuori equilibrio che ti dice sotto perché ti porta l'attenzione altrove come dice il maestro san germen là dove va la tua attenzione lì c'è la tua energia questo è uno proprio degli insegnamenti maggiori del maestro asceso san germen del settimo raggio viola è là dove la tua attenzione lì va la tua energia quindi perché ti dice dedicati a qualcosa che ti piace perché così riporti l'energia sul positivo quando noi facciamo una cosa bella una cosa che ti piace che può essere proprio anche solo ascoltare musica effettivamente riportiamo un'energia buona in noi ci aiuta quindi questa è una pratica che devi fare allora adesso vediamo l'altro messaggio per te la saggezza qui dice che tu devi vedere tutte le cose avverse sia i fatti che le persone come opportunità per espandere la tua luce spirituale saggezza ti dice quando qua c'è qualcuno che ti ostacola sia persone fisiche ma anche le cose che accadono perché ne accade una così un'altra così un'altra così ancora allora qua c'è un altro esercizio cercare come dicevo prima intanto di staccare no questo pensiero però capire anche con la propria consapevolezza che c'è una luce spirituale da espandere quindi mandiamo luce a quella cosa mandiamo luce e pratichiamo la metafisica io non ti conosco tu ostacolo tu non esisti io non ti conosco io conosco solo la verità questo è un insegnamento della metafisica base decretare che la verità è un'altra io non ti conosco la verità per esempio su una malattia la verità è la salute tu non esisti perché la verità è la salute ok alla mancanza di denaro io non ti conosco perché l'abbondanza di dio è il denaro è un flusso per me che c'è quindi non ti conosco la verità è che il denaro c'è ecco dovete riconoscere e affermare la verità potete anche dire la verità è dio e dio non fallisce in modo diciamo più generico no se non volete proprio dire salute soldi casa amore la verità è comunque sempre dio che agisce pertanto io a te difetto non ti voglio credetemi che questa è una pratica che vi cambia la vita provare per credere cara anima della lettura numero 2 spero che ti è servito per il tuo diciamo no cammino piano piano arriviamo alla nostra strada grazie mille se ti è piaciuto questo video lasciami un like iscriviti al canale e io proseguo procediamo quindi con la lettura numero 3 che ha scelto la sfera verde prendiamo subito il messaggio per la lettura numero 3 che ha scelto il numero 3 terza posizione è questo per te è questo il messaggio chiave partiamo e vediamo qual è quello che deve assolutamente sapere di importante vediamo subito allora oggi abbiamo avuto tutti gli arcangeli è incredibile cioè nel senso ce ne sono altri ma su tre tre sono arrivati è camoel anime raggiorosa amore incondizionato esperienza di vita dice qua numero 16 intanto che ti arriva qui dice che c'è un evento significativo nella tua vita una rivelazione che ti permetterà dei cambiamenti da fare una rivelazione potente è il tempo che tu apra le tue ali beh ok quindi abbiamo a breve se non è già successo un evento molto significativo della tua vita che rivelerà una cosa molto potente e ti permetterà di apporre dove serve dei cambiamenti significativi nella tua vita ed è tempo cara anima che tu apra le tue ali e prende il volo questo è quello che ti è arrivato quindi mi rivolgo soprattutto a chi sta fermo in questo momento che è il tempo veramente di muoversi di attivarsi di chiedere di comunicare sempre con le proprie guide giornalmente perché ci arrivano poi no in un certo senso le risposte e in tanti modi diversi per ognuno ognuno anche in base a quanto può capire a quanto può comprendere no non ci danno mai cose che non possiamo capire in un certo senso dobbiamo esercitarci il vero studente spirituale com'è da questo canale che spiega finché riesce ovviamente finché si può io do poi dopo se uno non fa però qua c'è un lavoro qui c'è anche un'esperienza di vita che ci dice l'arcangelo camoel che è importante in questo momento se la rivelazione che deve arrivare se già non c'è che cambierà le cose ti permetterà di apporre a te dei cambiamenti su qualcosa quindi aspettatelo o se è già arrivato vai a sistemare queste cose perché perché è tempo di prendere il volo ti dice quindi muoviamoci qua e non stiamo fermi non stiamo fermi quindi per alcuni per alcuni magari è già accaduto eh o qualcuno sente nell'aria che c'è qualcosa anche se non è accaduto no dice me sento che fra poco no ecco quindi sia che già sia accaduto o che deve accadere aspettatelo e però non è che deve passare così qua eh qui c'è da lavorarci dice perché poi c'è da porre qualche cambiamento in base a questa rivelazione molto potente dice qua una rivelazione potente potrebbe essere secondo me a livello anche spirituale non solo da una persona fisica magari qualcuno di spirituale ti manda un messaggio molto forte una rivelazione magari qualcuno va sulla cascia e vede proprio la cosa che gli serviva eh oppure durante una preghiera durante una meditazione insomma c'è una risposta molto importante per qualcuno oppure anche da persona fisica in base insomma alla vostra vita che vi dà proprio una rivelazione potente continuiamo vediamo ancora il maestro chi c'è qua hope che tradotto insomma significa speranza infatti c'è l'amore e l'accettazione l'amore è anche una comunque delle caratteristiche dell'arcangelo camoel eh l'amore è tuo qua dice che c'è una forza divina ok che devi anche un po' rifare come come per dire riprenditela questa forza divina falla tua c'è scegli dei pensieri amorevoli quindi qua intanto non ci colpevolizziamo perché l'accettazione di se stessi va fatta perché una persona che non si è perdonata per qualcosa difficilmente riesce è una delle condizioni proprio per procedere della serie non puoi essere uno studente spirituale andare su questi percorsi queste strade se dentro c'è un odio per se stessi o ci si crocifigge perché è stato sbagliato 35 anni fa e ancora quella cosa sta lì e perdoniamoci no ci perdoniamo perché tutti hanno le loro cose quindi non è che se tu hai una due o tre croci no sei peggio di quell'altro anche perché a parte che la gente non le dice le cose pure no sono fatti loro quindi tu non sai magari uno in pubblico è perfetto invece c'ha 25.000 scheletri nell'armadio per dire quindi pensiamo intanto che tutti sbagliano tutti commettono errori c'è chi l'ha fatti pure peggio di te quindi accettazione è il primo passo per poter avere anche amore poi per gli altri perché se non siamo a se stessi difficile anche realizzare in questa vita un amore è un po difficile perché l'amore prima viene da dentro e poi lo si espande e lo si riceve anche se non c'è la corrispondenza energetica in una persona così funziona per attrarre amore in tutti i sensi amore dobbiamo anche donarlo e averlo soprattutto per noi stessi quindi dice attenzione anche a che cosa a scegliere dei pensieri amorevoli quindi qui qualcuno deve ricalibrarsi un attimo su quello che dice e su quello che pensa magari c'è un atteggiamento sbagliato a livello verbale cioè ve le attirate pure dopo no cerchiamo di migliorare come parliamo quello che facciamo a livello di gesta proprio quello che pensiamo ricalibriamoci un po quando ci accorgiamo che stiamo andando un po fuori battiamo le mani schiocchiamo le dita pensiamo alla fiamma viola pensiamo un'altra cosa mettiamo la musica mettiamoci insomma distogliamo subito l'attenzione perché è normale andare un po fuori no però l'importante è il lavoro cioè come tu riesci a rimetterti in riga c'è qua dell'amore comunque che è tuo e questo amore lo devi cercare di manifestare qua c'è tanto amore nella persona che ascolta ma è come se non riuscisse né a manifestarlo né a darselo quindi qui basta con questa piaga ti dice che è ora che stop questo atteggiamento così devi accettarti non ti preoccupare scegli pensieri più amorevoli qui c'è già un perdono in un certo senso no e quindi ti devi perdonare è importante questo messaggio che ti è arrivato è il messaggio proprio della speranza vediamo ancora allora qua abbiamo un 777 intanto la magia divina ti sta aprendo nuove opportunità otterrai pure un risultato insperato dice vedi quindi cerchiamo di seguire tutte queste indicazioni perché c'è anche qua risultato insperato molto associabile a questa qua alla prima carta che dice una rivelazione molto importante e potente che c'è già o sta per arrivare e che ti permetterà anche di aprire le tue ali è un invito anche ad aprire le tue ali è della prima carta non dimenticate è un invito pure perciò qua otterrai un risultato isperato e c'è qualcosa che qua qualcuno magari aveva abbandonato come pensiero dice ma non accadrà mai non ci credo neanche se però qua dice che in realtà c'è qualcosa che nessuno sperava e che si realizza perciò intanto una bella notizia e poi parla di magia divina quindi qui qualcosa o qualcuno ci metterà lo zampino ti sta aprendo nuove opportunità magari l'angioletto che ti fa arrivare proprio in quel momento lì la notizia che ne so la guida spirituale che ti dà un'indicazione ti arriva una cosa tac qui si parla di magia divina e le opportunità nuove ci saranno te le stanno aprendo dice qua perciò coccolati mettiti qua in posizione amorevole come ti dice tutto qui no di andare verso quella strada perché ci sarà un risultato insperato quindi ottima notizia per qualcuno allora proseguiamo ancora vediamo un'altra indicazione coraggio eccolo qui infatti c'è da tirarlo fuori allora vivi la tua vita senza la paura con coraggio forza e determinazione eccolo qua allora che altro devo dire che già qua non c'era il coraggio intanto anche il coraggio dell'amore e il coraggio dell'accettazione e del perdono per se stessi con coraggio vai qua è proprio una una lettura la tre di coraggio di abbraccio perché qua è come se ti coccolassero ti dicessero ci sono vai c'è questo blocco via questo blocco tira fuori il coraggio perché qua c'è anche una paura che sta bloccando qualcuno perché parla di vivere la vita senza paura quindi vuol dire che qualcuno si sta facendo bloccare un avanzamento sulla propria strada sulla propria vita proprio dalla paura e la paura magicamente sparirà non appena fa il salto quindi coraggio ti è arrivata la parola chiave coraggio abbatte la paura basta un piccolo gesto da parte tua di coraggio un salto un qualcosa che tu fai per eliminare la paura perché poi ti guarderai dietro e dici ce l'ho fatta ecco questo è molto importante quindi coraggio forza e determinazione queste sono proprio le doti forti che ti sono richieste ma tu fai intanto il primo passo adesso non pensare che oddio oddio fa intanto il primo perché poi arrivano gli altri neanche ti accorgi è un po' guardare troppo lontano che mette paura a volte quindi non guardiamo troppo lontano guardiamo intanto il primo che possiamo intanto fino a lì ci arrivo poi abbiate fede che si prosegue si va avanti va bene cara anima mi raccomando grazie mille lasciami un like al video se ti è piaciuto iscriviti al canale io per questo video ho terminato tutti vi ricordo leggete la descrizione sotto perché ci sono tutte le notizie chi vuole fare i percorsi in privato le consulenze insomma quello che vi interessa andate a vedere sul sito gli oracoli come fare le consulenze le tovagliette tutto quanto e leggete anche quinta dimensioneletture punto it mi raccomando a tutti grazie ancora agli abbonati che sostengono il canale tutti gli iscritti e nuovi grazie ancora di essere stati qui insieme a me vi aspetto presto su quinta dimensioneletture per un nuovo video insieme ciao a tutti grazie